Siete curiosi? Glielo possiamo raccontare o la dobbiamo tenere? Dovete sapere che con Alfredo abbiamo talvolta fatto dei dischi durante la fase proprio più gloriosa del top audio. A un certo punto eravamo ancora nella fase in cui c'erano anche degli impianti super audio cd e multicanale e chi meglio di Telark avrebbe potuto fornire, ora c'erano poche persone che conoscevano a fondo quanto noi il catalogo Telark ed io all'epoca avevo praticamente recensito tutte le registrazioni in multicanali di Telark. Bene, Alfredo è riuscita ad avere l'autorizzazione da Telark di realizzare solo per noi un master in super audio cd multicanale, cioè questo è un super audio cd multicanale che ormai da anni è protagonista delle nostre dimostrazioni audio, anche quelle più recenti al di là di questo evento top audio. Ma attenzione, guardate qui, qui ci sono innanzitutto il famoso attacco di Copland, Fanfare, I Got You Under My Skin, Big Band Orchestra, abbiamo danze polovesiane, Capriccio Italiano, Val Teufel e non manca il devastante attacco con le percussioni dalla colonna sonora di Jarre de Lorenz d'Arabia, la danza delle spade di Caciaturian e poi abbiamo delle parti dalla Carmen di Bizet e naturalmente non si può non iniziare con il Così parlo Zarathustra di Strauss, cioè non esiste un'altra compilation musicale che abbia questi brani, ma di certo non lo esiste nel formato super audio cd, ma non esiste in un formato super audio cd multicanale. Chi di voi potesse concepire di avere ancora un lettore ormai raro di super audio cd multicanale? Questo è pazzesco, io credevo fosse estinto e tu me lo vendi qui a 15 euro? Cioè tu questo non ce l'hai? Non puoi non avere? No, cioè, stiamo... Te lo regalo? Sì, te lo regalo io. No, ma mi lo regalo io, vedrai, sono figliolo di un disco io. Quanti c'è un euro? Eh, bisognavi controllarsi in magazzino, 30-40 copie. Devo controllare.